Sappiamo l'importanza della partita e l'importanza di questo torneo. Ti posso dire che dopo la Spagna subito ci siamo guardati e abbiamo detto che la partita più importante era quella di mercoledì, quella di domani. Perché se batti la Spagna fai qualcosa di grande, però devi dare continuità. Una vittoria domani lo sappiamo quanto possa essere importante. Per la pressione no, perché facciamo un mestiere che è il più bello al mondo, indossiamo la maglietta più bella del mondo. Siamo italiani, indossiamo la maglia d'Italia, facciamo un europeo in casa. Deve essere orgoglio e trasportare la nostra gente che viene allo stadio insieme a noi in campo per portare i risultati buoni. Tanti anni fa non pensavo di essere qua a giocare un europeo under 21. Sono una cosa che vivi con il presente, dovuti dai sacrifici, da tante cose che tanti di noi fanno. Da terzino nazionale è un terzino un po' finto perché mister Mancini quando vai a impostare sei un terzo di difesa, quando difendi sei un terzino. Mi sono trovato bene, ho avuto delle difficoltà, non lo ammetto perché è un ruolo che ho ricoperto un po' meno. Però quando stai in nazionale fai i ruoli che ti dice il mister e li fai tutti. Se lo posso fare anche qua in under 21 senza dubbi. Se il mister vuole metterli lì perché decide di metterli lì sicuramente lo farò.